Io sono l'imperatore Tempo immemore ormai Noi vediamo servizio by requirement Hanno sempre Oddio mio Da 269 alle 447 divisioni Vediamo noi come siamo messi Noi abbiamo 58 divisioni La Romania 15 La Bulgaria 8 E la Germania 234 Vabbè No il resto non era questo che volevo guardare Era quest'altro L'Unione Sovietica invece ha perso 5 milioni di uomini Noi ne abbiamo persi 700 mila La Germania ne ha persi 6 milioni Quindi non so con quanto ancora Stia combattendo Però noi siamo sempre L'esito non è ancora scontato Non è ancora scontato Va bene va bene dai ragazzi Intanto qui Stiamo passati completamente alla fase difensiva Perché attaccare non è più Una nostra prerogativa per il momento Vediamo se possiamo mettere qualche comandante Armi manovra Defesa Armi morale Boh mettiamoci badoglio Che comunque dà morale alle truppe Non so che morale dovrebbe dare alle truppe Però Qui lasciamo riorganizzare Vediamo di quanto siamo sotto Siamo sotto Siamo sotto praticamente di tutto Autorizzato Razioni Fight Vabbè Tanto la Repubblica Popolare Cinese È entrata nel comi interna Ebbè Era scontato Però non so se entrerà in guerra Mi sa di sì Però Eh sì Entrata in guerra con noi Non è entrata in guerra con il Giappone Attenzione Attenzione Vediamo Tanto se il Giappone È passato all'offensiva Sta facendo qualcosa Manchukuo si trova in guerra con l'Unione Sovietica Non lo so Vediamo se l'intervento giapponese servirà a qualcosa Oppure invece ci farà fallire completamente Allora La nostra flottina è quella lì 25 divisioni Abbiamo Abbiamo questo Però un attacco a Gibilterra Non potrebbe essere poi così tanto male Se abbiamo qualche divisione qua e là Che possiamo utilizzare Abbiamo solo i Marina al momento Che diamo magari a Cavallero sempre Badò io non lo voglio usare ragazzi Ormai Ve ne sarete accorti Cominciamo a pianificare un attacco A Malta Che speriamo sia in difesa E sfruttiamo la situazione Confusa Per conquistarla Vediamo se è Giappone Dai Giappone Per il momento non sta succedendo granché Sul fronte orientale Allora Secondo me bisogna sfondare qui perché non c'è il fiume Quindi facciamo così Separiamo in due tronconi Sei attaccano di qua Sette Magari attaccano di qua Che sono due divisioni Vediamo come va Sì beh Sembra che stia funzionando di più L'attacco in questa zona Vediamo se Sì siamo completamente all'offensiva Vediamo Speriamo che vada bene Non sferiamo più offensiva assurde Astruse Perché non hanno senso In realtà è già pronto Proviamo a spostare la nostra marina La spostiamo Qui Stati in quella zona Lo fa? Sì lo fa Speriamo non incontri nessuno Qui dovremmo avere Qualche bombardiere navale Che spostiamo in questa zona E poi bombardiamo le navi Da quest'altra parte Così Vediamo Quando facciamo uscire La nostra flotta Ok non abbiamo incontrato Ancora nessuno Naval battle Ah sì ovviamente Anche i nostri convogli Non è che se la stiano passando bene Ah qui stanno attaccando Chi sta attaccando? A noi Quando esattamente Ho ordinato l'attacco Non ne ho la più pallida idea Per favore Sospendetelo È un attacco più schifoso Di quello Non lo vedevo da anni Ok abbiamo mandato La nostra flotta In questa zona Direi che è il momento Di fare un petrol Sopportato E poi Cavallero Ha organizzato Questa Quest'attacco Da parte della marina Se conquistassimo malta Eh no però La vedo La vedo guarnita Annulliamo tutto Troppo tardi Per annullare tutto Cos'è Il trattato di pace Con l'unione sovietica No Purtroppo Purtroppo no Ah forse avrei dovuto Far di sì Vabbè poco male Vediamo se questa Avrei dovuto aspettare Gli altri marine Vediamo Com'è Minchia Proprio veniamo Completamente arati Sono tre divisioni Ah S'è proprio persa È proprio stata distrutta La divisione dei marine Completamente distrutta Neanche tipo La possibilità Di ritornare Nei porti Beh Allora direi Che questo Possiamo rimetterlo Ritornate pure Nel porto Abbiamo capito Che Non va poi così bene Non voglio Che fate Quell'attacco Che è che volete Affondare Quei convogli Però Qui abbiamo vinto E adesso Utilizziamo Questa vittoria Per dilagare Proviamo a circondarli Poi questo Prendiamo Una divisione La mandiamo In questo porto Il mio obiettivo Divisione motorizzata Gli facciamo fare Un altro giro Un po' più lungo Così Sembra Un ottimo modo Però quel giro lì È troppo lungo In effetti Così Ok Stiamo Sferrando No ragazzi Adesso Stiamo Dilagando Porca puttana No Mi sono rotto I coglioni Di questi Sovietici Di merda Qui sferiamo L'attacco Qui sferiamo L'attacco Motorizzata No Mi hanno già Bloccato Porca Di quella Miseriaccia Però qui Quando attacchiamo Con 6 divisioni Vinciamo Chissà perché Meglio che vi Fermate qui Non possiamo Fare manovre Grandiose Con 24 divisioni Però quello che Possiamo fare Lo facciamo Il nostro Manpower Comunque Continua a diminuire Questo mi spaventa E non poco Gli australiani Hanno conquistato Le Baleari Allora Queste divisioni L'abbiamo vinto Noi Battle of Malta Le nostre navi Sembrano esserci Tutte Quindi le rimandiamo Nel canale Tornate a casa Bene Allora I sovietici Sono sempre Potentissimi Proviamo ancora A pochettizzarli Questo Edit mode Teniamo solo qui La linea del fronte Porca miseria Ogni volta Che sposto Delle divisioni Allora Motorizzata Annullate l'attacco Mentre gli altri Voi attaccate Sì Tipo anche voi Attaccate in questa zona Dai Voi attaccate Questi alpini E sfondiamo No ragazzi Non ho intenzione Di arrendermi Possiamo ancora Farcela Oh ma I tedeschi Cosa cazzo Combinano Cioè Sembra che perdono E poi Sferrano Una mega Offensiva Che li riporta Qui a qualche Kilometro Da Minsk Non lo so Cosa cazzo Stanno facendo Allora Attacchiamo In questa zona Continuiamo Ad attaccare Carca miseria Ma sono così Forte Sti minchia Di russi Allora Motorizzata Adesso vi facciamo Un bello scherzetto Ci proviamo Ancora Io ci provo Sempre a tentare Di circondarle Il fatto che Fallisce sempre Il mio tentativo Così va bene Ok vedete Poi loro Contrattaccano E vi bloccano Sempre la mia Divisione Motorizzata Mentre qui però Ormai abbiamo Sfondato Eh no Qui non riuscirete A fermarmi Mi spiace Sto arrivando Bastardi Queste tre divisioni Verranno Decimate Eh no Mica vi faccio Muovere State fermi Lì Questa invece Dovrebbe Procedere Nell'annientamento No Questa ferma No ragazzi Devo avere Mille occhi Perché Sennò Veniamo Sopraffatti Mentre su Pianifichiamo Un'offensiva Leggera Dato che i tedeschi Sono passati All'offensiva Magari Possono Darci una mano Sopraffatti Mentre Sopraffatti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi la nostra mitica divisione corazzata la mandiamo qui a nord. Stiamo quasi arrivando a Stalingrado. Tre messe qui sta avanzando a tutta velocità. Cazzo badoglio una cosa ti ho chiesto conquista la Turchia l'obiettivo più facile della storia ci sta mettendo 40.000 anni. Scusate ragazzi se sto parlando con i generali del gioco ma... Se no... cioè se non gli faccio da balia io... Non voglio più avere cose controllate dai sovietici. Allora Manpower si sta esaurendo. Siamo a 200. Vediamo se possiamo cambiare. Service by requirement. Extensive. Recrutare la popolazione. No. Ci servono 300 di potere politico. Sono a 214. Non manca poi così tanto. Speriamo di non esaurirlo. Speriamo di non esaurirlo. No! No, 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 no. In Sicilia no ragazzi. Che cazzo vuol dire? Ma quante truppe sono arrivate? Come hanno fatto ad arrivare così tante truppe? No, dobbiamo mandargli... Quali... Oh cazzo. Oh cazzo, no. No. No, non posso perdere così. Dove sono i paracautisti? Andate. No, allora. Riorganizziamo un attimo il comando. Qui... Ma ne aveva quattro le divisioni. Ma dove sono finite? Cavallero, tieni questa zona. Ti do un'altra divisione. Poi qui... Sono le divisioni di questo... Divisconti Prasca. Che mandiamo qui. Due divisioni. Coglioniamo... Queste. Siamo spacciati ragazzi. Cerchiamo di resistere. Questa è una divisione coloniale, purtroppo. E la nostra flotta è già stata annientata? Quando è stata annientata? Caputana. In queste serie di battaglie abbiamo perso un sacco di... È rimasto solo... Un incrociatore! Nooo! Nooo! Scusate. Lo sento come Ottaviano quando perse le sue legioni. Miseriaccia. Poi tutto quello che ho guadagnato dalla Turchia è stata una... Fabbrica militare. Ma cosa cazzo? Eh... Speriamo... Attacchiamo. Allora... Questa manteria motorizzata la mettiamo qui. Che così avanziamo velocemente. Qui stiamo arrivando a Stalingrado. Oh! Quanta soddisfazione mi dà questo attacco! Però vedo che la Sicilia stiamo arretrando sempre di più. Abbiamo bisogno di altri rinforzi. Eh... Andate giù. Andate giù. Allora... Andate giù. Eccolo ad 8ri. ELLA Orilla... Eccolo ad 8ri. ok i tedeschi sono arrivati nuovamente a leningrado pronti ad assediarla e niente vediamo cioè l'unità nazionale sovietica è ancora altissima ma non è che hanno poi più così tante città importanti beh noi qui ci concentriamo sul nostro settore mentre spero che i tedeschi siano in grado di conquistare leningrado la situazione mi sembra abbastanza messa bene hanno un sacco di cararmati i tedeschi boh io sinceramente cioè io sto dicendo che sono il più grande giocatore di arts of fire non è vero però però devo dirvi la verità non ho capito come abbia fatto la germania a far retrocedere i russi c'è stato un momento in cui ci siamo ritirati in questa zona ed eravamo messi malissimo comunque niente dai vediamo cosa riusciamo a fare qui fatto di un'aggressione accettiamo e ve l'ho detto deve essere stato questo questo attacco qui giapponese so se qui ci sono delle città in giappone mi sembra abbastanza forte questo ci ne è organizzata quindi questa fazione è la oh è tutto questo è tutto giapponese questo è tutto dell'asse non è tantissimo vabbè adesso dovrebbe aumentare e poi c'è il comintern che però ha perso notevolmente efficacia di leningrado mi piacerebbe aiutare i tedeschi perché vedo che stanno facendo fatica ok qui abbiamo spazzato via i francesi mentre la rabbia no la rabbia non è di nessuno ok bene va benissimo ragazzi ragazzi le truppe di chi sono queste quelle di messe del genere ma perché si chiama enrico caviglia no non dirmi che è sempre stato enrico caviglia me ne sono accorto adesso che aveva la foto di messe vabbè le truppe di enrico caviglia no ragazzi magari chissà da quanti episodi mi state prendendo per il culo no comunque sono finalmente entrate in egitto quindi finalmente ragazzi ok allora vediamo cioè conquistare è la main da questo lato del nilo diciamo è tutta un'altra cosa intanto la germania ci manda un po di land lease che ci servono assolutamente perché noi siamo un po quelli messi peggio vedete il giappone qui si sta espandendo un sacco direi che la campagna con l'unione sovietica ragazzi tra l'altro il regno unito ha dichiarato guerra alla svezia al regno di svezia non ho capito perché l'unica cosa che mi sono accorto che in effetti aveva un po di comunismo che sta aumentando ma niente di niente di che tra l'altro che abbiamo i sovietici che stanno cercando di prendersi la turchia ma prendetela pure tanto poi vi arrenderete quel territorio ritornerà mio non ho intenzione di ritornare sui miei passi al momento l'unico problema è in sicilia che come potete vedere stanno avanzando stanno attaccando e l'esercito principale non si trova aspettate mandiamo degli alpini l'esercito principale si trova in tutta altra zona quindi ho paura che sfondino allora ritiriamoci con tutto mettiamoci sulla punta speriamo regga un altro po ma porca di quella puttana mentre gli alleati sono sbarcati in sicilia perdo altre due divisioni che non ho porti e non ho divisioni in questa zona cosa posso fare l'unico cosa è difendere lo stretto proviamo a difendere lo stretto no sono troppo forti gli alleati anzi no mettiamo proprio un fronte ok eh no niente non sono riuscito a porca di quella puttana vabbè difendiamo qui cosa vi devo dire a me non avevano le penalità dell'attraversamento di uno stretto io non ho più truppe in questa zona qui i tedeschi si sono ritirati stanno andando verso verso la conquista dell'unione sovietica però io non ho alcuna intenzione di richiamare divisioni perché stiamo andando così bene a sud andiamo delle divisioni ben armate no qui per il momento la sicilia se la deve cavare da sola perché non possiamo spostare divisioni perché stiamo conquistando tutto l'egitto finalmente è la prima volta che vedo un'offensiva in egitto da questo lato del nilo però non male non male davvero qui sembra che la battaglia la stiamo vincendo con questa altra truppa che stiamo attaccando qui vedo che continuano ad avanzare verso sud non andiamo tanto perché va bene riconquistare il nostro dominio coloniale però abbiamo altre cose a cui pensare al momento allora qui vediamo cosa possiamo fare mabb 38 possiamo fare le nuove armi chiaro poi direi che mettiamo proprio a produrre nuove armi vediamo se ci manca qualche risorsa siamo sotto di gomma e basta per il resto abbiamo qualche ricerca ma appunto ho visto che l'albero è praticamente finito quindi facciamo questo i marini di terzo tipo 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 forse siano già arrivati proviamo ad avanzare vediamo se ce la fanno a sconfiggere gli americani sì ok niente l'offensiva sembra proseguire andiamo verso l'Eritrea che dovrebbe essere qui lo dà come territorio inglese ma è nostro quindi adesso ce lo riprendiamo la persa è capitolata anch'essa bene abbiamo preso un bel po di risorse balbo che così no 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 ok quindi adesso confiniamo con i giapponesi ok balbo prendi questo e vai vediamo se ci sono se c'è qualche città che è questa e niente avanziamo anche da questo lato ragazzi voglio concludere l'episodio appena capitola la russia quindi ci vorrà penso ancora un pochettino oddio ragazzi a roma dividiamo a metà e no non avevo più messo niente a protezione oddio ragazzi niente con questa invasione di roma concludiamo l'episodio ci vediamo nel prossimo ciao a tutti da media al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti a tutti